mi sta bene la cravatta? perfetta! bene! allora bellometto di che parliamo oggi? eh tu sei tornato il grande inviato ormai l'incaronazione è andata ma già si pensa ai successori parliamo di re e regine che stanno in italia soprattutto della santa anch'è la perlusconi l'unico vero imperatore l'imperatore è tornato in campo perlusconi e quindi è tornato in campo il comunismo e quindi maurizio acervo ha ringraziato perlusconi perché si è tornato a parlare di comunismo in tv e poi tante altre cose a tra poco